E allora eccolo qua, l'ho ricordato prima, lo psicologo Stefano Bartoli, ve lo presento rapidamente, è un trainer internazionale del modello strategico, formatore in importanti corsi master, è il direttore operativo del centro di terapia strategica di Arezzo, oltre qui per le sue conoscenze che spaziano in vari campi, è un consulente di grande aziente, coach di atleti, professionisti e imprenditori, docente universitario in tecnica di colloquio clinico ed autore di numerosi saggi. Mi fa piacere ricordare, visto che anche io e il gran maestro, l'abbiamo detto anche prima, da lì proveniamo, che è nato a Siena, è nato a Siena e si è lavorato presso la locale università, poi si è specializzato in varie parti d'Italia e all'estero. È allievo, e questo è importante ricordarlo secondo me perché è il suo maestro, dello psicologo e psicoterapeuta Giorgio Nardone che è fondatore nel 1987 proprio del centro di terapia strategica di Arezzo. Tra l'altro ho una curiosità perché ho spaziato anche nel sito internet e ho visto che di lei parla bene anche il filosofo Umberto Galimberti, c'è anche Umberto Galimberti che domani tra l'altro alle 12, lo dico per tutti ma è nel programma, lo troveremo in questa gran loggia e ci parlerà dell'uomo nell'età della tecnica. Bene, forse sono stato un po' lungo ma quando si fanno i cambiamenti in corsa magari non si riesce a mettere tutto in ordine, spero di averlo fatto. Sentiamo quindi l'intervento, grazie troppo buoni, sentiamo quindi l'intervento che ci porta oggi Stefano Bartoli che penso sarà, come vi dicevo, focalizzato sul presente che viviamo, quali strategia magari possiamo affrontare. Grazie per essere qui e prego a lei la parola. Grazie dell'invito, ora parlare dopo una testimonianza forte come quella di Sara della Gioia non è facile e come è stato anticipato stiamo vivendo un periodo storico in cui siamo bombardati da stimoli prettamente di angoscia. La pandemia, la guerra, le crisi, le crisi di identità, le crisi energetiche, le crisi economiche. Quindi siamo come i topolini negli esperimenti pavloniani che vengono elettrifizzati continuamente. Ogni giorno potrebbe esserci qualcosa. E quando la nostra mente, la nostra psiche viene continuamente bombardata da attacchi, da qualcosa di cui dobbiamo difenderci, automaticamente per sopravvivenza andiamo in una situazione stressogena in cui abbiamo un'allerta elevatissima. Quando il soggetto ha uno stato di allerta continuamente elevata, ovviamente non dà spazio a tutto quello che può essere la felicità, la gioia, tutte quelle che sono quelle dinamiche più interiori di rilassamento e benessere. Per sopravvivenza. Se stiamo combattendo non possiamo rilassarci. Questo, come dire, il nostro paloencefalo ce lo insegna. Quindi come introdurre la gioia in questo momento storico qua? Probabilmente l'azione che dovremmo fare è non identificarla come un'emozione. Perché se noi identifichiamo la gioia come un'emozione siamo condannati ad averla e poi a non averla. Perché qualsiasi emozione è temporanea. Non c'è un'emozione per sua struttura che sia permanente nel tempo. E quindi se noi viviamo gli stati di gioia appunto come stati, noi abbiamo la condanna di averli, perderli, ricercarli per riaverli e per riperderli. E quindi andiamo su una sorta di altalena in cui abbiamo dei picchi. Dei picchi di appunto felicità, gioia, serenità li perdo e devo cercare qualcosa per recuperarli. E questo, tra l'altro questa dinamica nei giovani è diventata una condanna. Perché gli stimoli dopaminici, quindi gli stimoli di in quel momento gioia, felicità, si hanno con i social media. Quindi scrollare continuamente il cellulare, avere le notifiche, ha un rilascio dopaminico di bassa qualità. In quel momento sto bene, appena lascio ne ho bisogno e crea una dipendenza. Quindi se noi identifichiamo la gioia come un'emozione, come un sentimento, siamo condannati ad andare alla ricerca continua. E allora la prospettiva, dal mio punto di vista, più funzionale in questo periodo storico qua, è quella delle sapienze antiche. Quindi riprendere il concetto di gioia non come un'emozione, come uno stato temporaneo, ma come un'attitudine. Quindi vederla come i latini la chiamavano iocunditas. Quindi un atteggiamento nei confronti della realtà. Ma come possiamo avere dentro di noi questa iocunditas se non abbiamo una proiezione nel futuro? E allora lì nasce un concetto nuovo. La gioia, intesa come attitudine quotidiana, costante e non momentanea, deve essere associata alla speranza. Perché se non c'è speranza non c'è gioia. E allora la speranza per sua struttura ha un orientamento sul futuro. Pensate che etimologicamente la parola speranza deriva dal latino spes, ma in realtà ha una radice sanscrita, spa, che vuol dire tendere verso. Quindi la speranza è un'attenzione verso il futuro. E questo è particolare perché per avere speranza verso il futuro connaturata dentro la gioia vuol dire che devo credere che il futuro può essere migliore. Ci devo sperare. E per sperarci mi devo sentire attore principale di come io posso intervenire oggi per creare un domani migliore. E allora questo concetto di unire la gioia alla speranza, viverla come un'attitudine costante indipendentemente da ciò che accade, è proprio, è probabilmente il segreto. Che poi non è un segreto perché fin dall'antichità tutte le culture conoscevano questa dinamica. E vi racconto di uno psicologo che descrive molto bene questo concetto. Lui si chiama Viktor Frankl, molto famoso. Ha scritto diversi libri. Quello più famoso è uno psicologo nei lager e lui da psicologo viene praticamente a una situazione particolare di vita in cui viene imprigionato ad Auschwitz e anche in altri campi di concentramento e vive lì come prigioniero. E lui da psicologo e da psichiatra fa quotidianamente una sorta di disamina di quello del fenomeno, che tra l'altro è stato anche un modo con il quale lui è riuscito a sopravvivere. E in fondo al suo libro, questo è uno psicologo dei lager, che tra l'altro è un librettino che si legge anche molto bene, lui scrive, ho osservato che le persone che perdevano il proprio orientamento futuro, quindi perdevano la capacità di vedere se stessi nel futuro, un futuro senza più quella situazione, non avevano più speranza. Non avendo più speranza, perdevano quel briciolo di forza che li rimaneva e nell'arco di pochi giorni sarebbero morti. Mentre coloro che mantenevano viva dentro di sé l'immaginazione che un giorno sarebbe finita quell'inferno, ogni giorno si alzavano e lottavano. Non sapevano quando sarebbe finita, ma mantenevano dentro di sé la speranza che qualcosa sarebbe successo. E quelli sono quelli che sono sopravvissuti. E conclude scrivendo, dalla mia esperienza potrei dire che l'essenza dell'uomo è la sua proiezione futura, non è la sua situazione presente. E probabilmente in questo periodo storico in cui noi siamo circondati, bombardati sempre da informazioni ad orientamento negativo, la vera pandemia probabilmente è quella informatica, di informazione, l'infodemia, forse dovremmo riorientare per avere gioia come attitudine la nostra visione sul domani, su un domani in cui possiamo essere agenti del cambiamento, poter fare qualcosa e allora con questa attitudine la gioia torna a noi, senza doverla cercare. Grazie. Grazie, grazie a Stefano Bardoli per il suo intervento. Naturalmente da questo punto di vista, prego, non appena ci saranno notizie dell'arrivo del musicologo Giovanni Bietti, di farmi ampi cenni così lo facciamo venire sul palco. Nel frattempo, cosa che non è prevista, ma a questo punto colgo, come si dice, la vostra attenzione e vi sollecito in tal senso, possiamo magari fare un paio di domande, se vogliamo, a Stefano Bardoli. C'è già una persona, no è meglio che la facciate voi. Bene, si presenti e poi, e poi, prego. Fabio Barucco, da Siracusa. Carissimo professore, non è che così si rischia di vivere una vita virtuale? Magari possiamo chiedere anche questa stessa domanda, la facciamo a Umberto Galimberti domani pomeriggio, vediamo che ci dice. Per un tanto sentiamo anche la sua. Prego, prego, arrivo. Poi ne prendo un altro, magari. Allora, la domanda è interessante, perché noi per cultura occidentale, almeno da un punto di vista psicologico, siamo figli dell'idea che la nostra situazione presente deriva dalle esperienze passate. Se noi lo osserviamo in maniera un pochino più empirica, in realtà noi siamo, quello che facciamo nel presente è determinato molto di più dal futuro. Ci sono esempi molto semplici, se voi ieri sera siete andati a letto, l'ultima cosa, è l'esempio che faccio sempre, l'ultima cosa che avete fatto magari è mettere la sveglia e l'atto di mettere la sveglia era orientato a quello che dovevate fare la mattina dopo. Se voi siete qua oggi, vuol dire che o siete partiti stamani o ieri sera e quindi l'atto che avete fatto in quel presente era determinato da quello che volevate fare nel futuro. E questo è un concetto importante, perché tutto ciò che è virtuale, non tecnologico da questo punto di vista, ma virtuale come immaginazione, in realtà l'essere umano lo traduce come irreale. E allora lì si apre lo scenario di quello che viene definito in antropologia l'oltre. L'oltre deriva da uttaras che vuol dire al di là. È solo quando noi vediamo qualcosa che la possiamo realizzare. Se noi non vediamo non possiamo realizzare. E ciò che noi immaginiamo è sempre avanti, è sempre qualcosa che è virtuale, ma con la capacità dell'uomo lo possiamo rendere reale. E quindi è vero, noi viviamo in una virtualità con la potenzialità di renderla concreta. C'è un'altra domanda. Arriviamo, arriviamo. Grazie. Leonardo Mortati da Torino. Una domanda legata alla speranza ed era più che altro una visione tipo quella di Seneca, stoica, che diceva proprio il contrario, di cercare di pensare l'evento più negativo per essere preparati al peggio, è un po' in contraposizione con questa idea. Quindi forse la gioia dovrebbe essere vista più come nella joconditas, tipo di come vedere la vita come un gioco e non prenderla troppo sul serio. E quindi nel non essere prigionieri della speranza, perché la speranza ci può deludere e quindi creare tristezza, quindi il contrario proprio della gioia. Allora Seneca nella serenità dice una cosa un po' diversa da quello che è la posizione stoica. Nelle contingenze avere una sorta di quello che noi potremmo definire adesso un pensiero positivo trova pienamente quello che lei ha detto. Se noi speriamo in maniera ingenua che le cose vadano bene, allora poi creiamo i tre livelli, no? Illusione, disillusione e depressione, che è sempre così. Ci illudiamo di qualcosa, poi quella cosa che mi sono immaginato non avviene o è completamente diversa mi disilludo e se cado vado in depressione. Ma quello che abbiamo detto prima contempla qualcosa in più rispetto solo alla speranza. È spero ma sono attivo. È il soggetto attivo dentro quella visione che può permettere di realizzarla. Quindi non è solo spero che mi vada bene, non è speriamo che, ma è ho l'attenzione verso per cui io mi sento artefice di quello che posso fare, cerco di farlo. Se non riesco a farlo, nonostante abbia provato e riprovato e riprovato e riprovato, non avrò né rimorsi né rimpianti perché ho messo tutto me stesso e in questo caso ci viene in soccorso il poeta Pessoa. Cercate di mettere sempre tutti voi stessi in tutto ciò che fate. Se poi quello che avete sperato non si realizza, come dire, morirete da guerrieri ma ci avete provato. E forse la speranza non è realizzare, è fare, indipendentemente dalla realizzazione. Grazie, grazie a Stefano Bartoli. Non era prevista queste domande, meno male che Stefano Bartoli è molto bravo e regge l'improvvisazione. Quindi un altro applauso ulteriore per questa disponibilità. Grazie, grazie davvero. Come vedete la platea reagisce piuttosto bene perché di domande ce ne sono diverse. Prego. Francesco Ogruso da Catanzaro. Brevemente ho ascoltato con molta attenzione l'esposizione del concetto di speranza. C'è una scuola di pensiero però che ci dice che lei ha presentato la speranza come proiezione è legata al futuro. Ma c'è una scuola di pensiero che ci dice qualcosa di diverso. Perché se io mi proietto nel futuro abbandono il presente. È come se virtualmente io mi allineassi in una realtà che non c'è. Mentre la vera realtà, specie a livello psicologico, è quella del presente. C'è un concetto orientale, lei conosce meglio di Mene, che fa riferimento a Osho. Vivi il presente con l'intensità e compi per le operazioni elementari della vita come quella di allacciarsi le scarpe con la stessa sacralità con cui preghi o con cui fai l'amore. Come si conciliano queste due visioni? Sì, questa è un'ottima domanda. Allora, sono due livelli leggermente diversi. Tutta la cultura orientale che in realtà del qui e ora, potremmo dire più buddista, poi Osho l'ha fatta sua ovviamente, ma se lei ha letto Osho, ovviamente Osho era un grande progettatore. Cioè era un grande anche imprenditore, quindi aveva sempre una proiezione futura. Ma qual è il rischio? Il rischio è che se noi orientiamo e basta nel futuro e quindi tutto quello che facciamo è, non sono mai nel momento presente perché ho sempre una mente avanti, lì le do perfettamente ragione. Quindi dovremmo bilanciare l'esserci, come diceva Heidegger, il Dasein, l'essereci qui nel momento presente e viverà pieno, ma se non ho un orientamento nel futuro l'essere umano non vive. Cioè, ma proprio a livello operativo pragmatico, se voi stasera non avete idea di dove andare a cena, potete improvvisarlo lì per lì, ma a un certo punto dovrete pensare dove andare a cena. È un esempio banale, quindi c'è un orientamento anche banale del futuro. Quindi è avere un orientamento dell'oltre, del domani, ma vivere a pieno il presente. E tra l'altro il presente lo si può vivere a pieno solo se abbiamo uno scopo. Pensate alla sensazione del dolore, che è una delle quattro sensazioni di base insieme alla paura, il piacere e la rabbia. Se il dolore non fosse finalizzato, per gli esseri umani sarebbe insopportabile, se non gli diamo un significato. Pensate ad una donna che deve partorire. Se non avesse la finalizzazione del dolore per dare la vita, quel dolore non sarebbe sopportabile. E la finalizzazione, lo scopo è sempre su quello che deve essere realizzato. Quindi è un bilanciamento tra avere una proiezione nel futuro e grazie a questa viversi pienamente il presente. Grazie Stefano. Poteva fare anche un altro esempio che è questo. Se state facendo un convegno e un relatore non è ancora arrivato, dovete pensare e trovare una soluzione al momento. Quello che ho fatto io è qual è la soluzione? Quella di cercare di coinvolgere tutti voi nel far passare questi minuti. E perché qual è la nostra esigenza? È esattamente questa. E quindi potevi fare anche questo esempio, penso. E comunque grazie naturalmente. Qualcuno ha alzato la mano? Prego. Buongiorno professore, buongiorno a tutti. Mario Mattei da Palermo. È sicuramente interessante questo approccio alla gioia come attitudine piuttosto che come è un'emozione. Si dice che la felicità dipende da come si affronta quello che ci accade e non da quello che ci accade. Però mi sorge una domanda spontanea. Come si concilia questo con l'accettazione? Perché il cambiamento parte sicuramente dall'accettazione. Contrastare e avere una speranza, come dire, troppo disancorata dalla realtà non ci permette di essere attraversati dalle situazioni e quindi accettarle per superarle. Non voglio parlare di rassegnazione perché non è un'emozione che mi appartiene. Ma l'accettazione credo che sia comunque un presupposto per il cambiamento. Grazie. Allora, l'idea che l'accettazione contempli il cambiamento è una posizione che in molti casi è fondamentale, in altri non necessariamente. Anzi, alcune volte il cambiamento avviene perché non si accetta la situazione. Io faccio ovviamente riferimento al mio lavoro, ci sono delle patologie in cui se accettate una persona ci sprofonda dentro e quindi è proprio l'idea di non volerle accettare anche se mi è capitato che stimola l'idea di io lotto, vado avanti e ci provo. In altre situazioni accettare la situazione è fondamentale ma allora lì dobbiamo dividerla in due grandi livelli. Si accettano i fatti che non possiamo cambiare e si cerca di trovare le soluzioni ai problemi. Quando una situazione non è un problema nel senso che non trovo una sua soluzione immediata e non posso fare nulla, l'unica cosa che posso fare è accettarla. E allora lì diventa il motore per poi poterla gestire. Ma in tutte le altre situazioni in cui l'accettazione mi farebbe sprofondare in una situazione o in un problema che non voglio avere allora lì bisogna fare proprio un'azione contraria. Devo accettare di non volerlo accettare per lottare. Quindi in questo caso bisogna analizzare le situazioni. In taluni casi è fondamentale, in altri la non accettazione diventa la propulsione al cambiamento. Grazie ancora, grazie. Grazie, ci siamo quasi, ci dovremmo essere quasi. Ultima domanda e poi... Chi è che aveva alzato la mano in questa parte? Eccoci qua, prego. Buongiorno, sono Luigi Ulissi e vengo da Roma. Quindi speranza è un comportamento volitivo, io devo avere speranza, devo avere coscienza di quello che voglio necessariamente, altrimenti non ci sarebbe speranza. Non a caso noi tutti abbiamo chiesto la luce, quindi avevamo speranza che ci fosse qualcosa oltre quello che era la nostra coscienza di profani prima e di massoni di oggi. Mi viene in mente un pensiero, difficile forse da ottenere risposta, quella povera ragazza che si è suicidata, ecco, perché ha perso la speranza? Se io avessi le risposte e perché farei un altro mestiere, però... Guarda, è difficile questo. Allora, cerco di dare una risposta un pochino più psicosociologica, diciamo così, senza entrare troppo in meccanismi di interpretazione. Le nuove generazioni sono tutte figlie di un iperprotezionismo da parte dei genitori, in cui è stato per anni tolto qualsiasi... l'idea che sentire male, soffrire un po' sia sbagliato. Da un punto di vista invece psicologico, ma anche psicobiologico, l'essere umano è progettato per soffrire e quindi sa reggere la sofferenza. Cosa succede? Nel momento in cui noi creiamo una bolla di protezione nei confronti dei figli, delle nuove generazioni, per fargli vivere la vita più bella possibile, è vero che quando sono piccoli i bambini vivono sereni e felici, ma non avendo mai sofferto, allora lì diventano fragili e alla prima difficoltà cadono e non si rialzano, quindi viene meno quello che viene chiamata resilienza. E allora questo io credo che sia uno dei problemi maggiori. Ci sono sempre più persone che, grazie a un'iperprotezione genitoriale della società, si sono dimenticati di come ci si rialza e quando cadono si rompono. E quindi basta poco per fare andare una persona nella disperazione più totale, nell'angoscia più totale. E l'angoscia, a differenza dell'ansia, è una proiezione del futuro completamente negativa. Non c'è mai niente di positivo. E quando qualcuno non ha sviluppato dentro di sé un po' di struttura, l'angoscia può essere talmente tanto travolgente che l'unica via d'uscita per non soffrire è quella di fare la finita. Quindi siamo figli prodotti di una società o di una famiglia iperprotettiva che anziché protegge la danneggiata. Perché se non soffriamo un po', non creiamo la resilienza, senza la resilienza non reggiamo gli urti della vita. E la vita prima o poi l'urto lo propone per la sua struttura. Quindi dovremmo imparare, ed è il consiglio che noi diamo sempre anche ai genitori, ai bambini piccoli per esempio, di creare quotidianamente un piccolo problema che devono risolvere. Se è troppo grande vanno in frustrazione e allora lì non funziona più. Però un piccolo problema quotidiano che possono risolvere crea quello che Bandiura chiamava la percezione di autoefficacia. Quella che più banalmente viene chiamata autostima. Ma da piano piano educa il soggetto allo sforzo, alla sofferenza che lo sforzo contempla, ma anche alla speranza che ci riesco. Proprio perché ho l'esperienza fin da piccolo che ho sofferto un po', mi sono impegnato, ce l'ho fatta. E allora con questa idea creiamo piano piano persone sempre più forti che non cedono alla prima difficoltà, ma creiamo anche il coraggio di avere speranza per il domani. Grazie, grazie, manca ancora qualche minuto quindi c'è tempo per un'altra domanda. Per l'ultima perché è cinque minuti a mezzogiorno. Sì, sì, deve andare. E naturalmente... Continueremo fino a domani, ho l'impressione di porre domande. Alchilani, Reggio Calabria. Vedi il nome, non abbiamo sì. Alchilani, Reggio Calabria. La speranza e la gioia è un sentimento solo personale, individuale oppure può diventare collettivo. Perché lo dico? Perché l'esperienza di poco fa con la ragazza iraniana, i ragazzi palestinesi che tutti i giorni vanno nelle strade a tirare pietre contro i cararmati israeliani, sapendo che possono morire, come si può interpretare in questa visione di gioia e speranza? Non so se è una domanda un po' complicata oppure che non ha risposta. Allora, se io avessi la risposta a questo, avrei una visione del futuro profetica e, ahimè, purtroppo non ce l'ho. È chiaro che nelle situazioni drammatiche come quelle descritte, l'atto di tirare un sasso contro un carro armato non è la soluzione, è un atto simbolico, è un atto di ribellione, che ha più valore per il soggetto che lo tira nei confronti di quello che crea quell'atto. Però sono proprio le piccole azioni che sono l'esempio per le masse. Quindi è quel sasso lanciato che non avrà sicuramente effetto al carro armato che significa qualcosa di più del lanciare semplicemente il sasso. E quello crea, come dire, potrebbe creare, io lo spero, un modello di, come dire, cercare di ribellarsi alla situazione. Lottare senza armi ha comunque il suo grande valore. E questo è un atto di coraggio incredibile. Mi metto a lottare quando so che non posso vincere. Ma è l'atto, no? È il significato, il simbolo che ci sta dietro al lanciare la pietra. E da questo punto di vista forse dovremmo ricordare un po', se non sbaglio, era Francesco di Sales, che a un certo punto scrive o insegna, basta un raggio di luce per illuminare anche le tenebre più profonde. Bene, facciamo davvero un applauso di cuore sentito allo psicologo Stefano Bartoli che questa mattina ha fatto gli straordinari, tra l'altro non previsti. E quindi grazie davvero per la disponibilità. Tra l'altro adesso lui ci deve lasciare, ci deve salutare perché anche lui deve prendere un mezzo per portarlo in altra zona d'Italia e quindi lo ringraziamo davvero per il suo intervento, lo congediamo e gli rifacciamo un altro applauso.